La polisportiva Santa Maria inaugura il 2019 con una vittoria contro il Valadiano. Tre punti preziosi che consentono alla formazione cara alla patrona Francesco Tavassi di restare nei quartieri alti del girone B di eccellenza. Decisive le reti, una per tempo di Pasquale Manzo e di Desio. Nella finale di gara esordio stagionale in campionato per il portiere classe 2002 Giovanni Grieco, altro prodotto del vivaio giallorosso. Il match vede equilibrio sostanziale in avvio. Il Valadiano tiene bene il campo concedendo poco alle sortite offensive dei cilentani. Joff, ex di turno, al dodicesimo calcia in maniera poco precisa. Più pericoloso è invece Kerillo, tra i migliori in campo, al sedicesimo di gioco con un destro che viene bloccato da Faggiano. All'avventunesimo tocca a Desio calciare ma la palla è all'allato. Stessa sorte anche per il compagno di reparto Joff che ci riprova ma la palla si spegne mezzo metro sul fondo. Quindi sale in cattedra Manzo, numero 10 giallorosso, che calcia in porta due volte in poco più di 120 secondi tra il 27esimo e il 29esimo della prima frazione. La stessa punta che rientra in campo dopo le quattro giornate di squalifica sblocca la parziale a tre minuti dalla fine. Una combinazione stretta con Kerillo porta alla conclusione proprio Manzo che supera l'incolpevole Faggiano per l'1-0 giallorosso. Nella finale ci prova anche Trabelsi che dal limite costringe all'intervento l'estremo difensore ospite. Si va dunque al riposo sull'1-0. Nella ripresa parte meglio la polisportiva che si rende pericolosa in avvio al 51esimo con Kerillo mentre Ducurè un minuto dopo spreca una colossale occasione. L'attaccante tegianese si fa ipnotizzare da spicuzza. Al 53esimo botta in risposta. Prima Isoldi ci prova per il Valdiano e poi Manzo per l'Apoli sportiva ma entrambi non trovano successo. Al 16esimo è invece Desio, anche lui tra i migliori in campo, a cercare la via del raddoppio trovando però il no della portiere ospite. Al minuto 66 Kerillo calcia alto sulla traversa. A 12 minuti dalla termine la Valdiano resta in 10 perché della femmina si becca il secondo cartellino giallo. Dunque la squadra di Tudisco deve affrontare gli ultimi minuti della match con un uomo in meno e con un gol da recuperare. Allora la polisportiva ne approfitta e due minuti dopo chiude i conti proprio con Desio che sigla la rete del definitivo 2-0. Nella finale, come dicevamo in apertura, c'è spazio per l'esordio stagionale di Grieco e per gli applausi del pubblico della Carrano che festeggia i tre punti.